Il mio è uno dei miei sieri più belli del mondo perché comunque mi dà la possibilità, sono pagato per sciare, per giocare a tennis, per andare a vedere i tornei, per andare a vedere le gare, per relazionarmi con gli atleti, per cui è una roba bellissima. È un ambiente dove ci vogliono competenze molto specifiche perché comunque è un settore molto ristretto, però con le competenze giuste una carriera lavorativa è molto interessante e dà molte soddisfazioni. È uno di quei settori in cui si dice che lavorare non pesa perché ci sono gratificazioni che vanno al di là della normale professione? Assolutamente sì, come tutti i lavori è quello spirito di uno che ha la mattina, però noi ci incontriamo tutte le mattine, andiamo in ufficio cercando di trovare delle idee sempre nuove per fare prodotti giusti, perché noi diciamo sempre che non facciamo prodotti da vendere ma facciamo prodotti perché la gente li usi, per fare una prestazione sportiva, per cui c'è questo aspetto comunque legato all'attività sportiva molto importante. E poi c'è tutto quello che è lo studio degli eventi per promuovere questi prodotti che comunque per noi è un divertimento farlo. Cosa sono i giovani per head? Possono rappresentare opportunità? Quali opportunità di lavoro il vostro gruppo per esempio può offrire a un giovane? Un giovane, diciamo che l'azienda si divide in due parti, una parte che è la parte di back office dove ci sono delle funzioni aziendali che uno può fare in qualsiasi azienda, l'amministrazione, il customer service, e poi invece ci sono delle funzioni molto specifiche che sono dedicate fondamentalmente a persone che vengono dal mondo dello sport, cioè quando parliamo di sci, quando parliamo di tennis, per avere quella piccola marcia in più, per fare al meglio il proprio lavoro, se uno viene dall'attività sicuramente ha un feeling e delle competenze, un know-how che ha dentro, che sicuramente lo ha imparato facendo lo sport.